e coach Enrico Barbolini il suo sassuolo compie l'impresa soverato sotto due a zero ribalta tutto vince al tri-break quindice a undice conquista la semifinale di Coppa Italia penso che sia veramente una giornata storica per la sua squadra. Sì è una giornata importante perché se veniamo da un periodo un po' difficile causa un po' infortuni o malanni di stagione e per noi la Coppa Italia rimaneva comunque un obiettivo per crescere e oggi abbiamo dimostrato che vogliamo stare in campo fino all'ultimo punto all'ultima palla in tutte le partite. Oggi è andata bene devo fare i complimenti anche a soverato che ha lottato e abbiamo portato a casa il risultato noi ma penso che per il pubblico sia stata comunque una bella partita e in bocca al lupo anche ai nostri avversari per il proseguo del campionato. Oltre al risultato direi una grande prova di carattere della sua squadra perché sotto due a zero non ha mollato è ripartita nel terzo set ha giocato punto a punto poi nel quarto è ripartita con ulteriore vigore mentre nel tie-break ha mostrato grande lucidità. Sì sappiamo che delle volte la continuità è il nostro limite siamo giovani e spesso cambiare il nostro atteggiamento all'interno di una partita è difficile perché subentrano un po' di insicurezze, un po' di ansia, un po' di pressione per quasi tutte il primo anno di Serie A e oggi l'abbiamo fatto bene ripartendo dalle cose più semplici. Non abbiamo fatto cose strane o tirato fuori chissà quale coniglio del cilindro ma abbiamo messo in fila le cose che sapevamo che dovevamo fare senza farci venire troppo eh l'ansia di dover fare il punto subito in tutte le azioni. Con il capitano Ludovica Guidi commentiamo questa amara sconfitta al tie-break del volle soverato avanti due a zero a un passo la semifinale di Coppa Italia poi vi siete fatte rimontare probabilmente anche un calo di tensione che ha consentito il rientro al Sassuolo. Sì purtroppo dopo i primi due set vinti anche con determinazione direi eh c'è stato un calo di attenzione sicuramente e le piccole cose tecniche a partire da dalla ricezione e la battuta sono diventate meno aggressive e meno incisive quindi tutto è diventato più difficile e Sassuolo è stato bravo a rimanere lì e portarsi a casa questa semifinale. Il ramarico maggiore resta aver visto comunque nel campo un soverato che quando accelerava dava sempre l'impressione di poter comandare il gioco e la gara solo che è stato poco continuo negli ultimi tre set. Sì diciamo che dopo il terzo la continuità non è stata dalla nostra parte e purtroppo a questi livelli in partite così decisive e secche non è possibile avere un'alternanza di prestazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.